Presidente, una domanda per Blogosfera. Lei è stato due volte a vedere il Milan quest'anno e due volte ha vinto contro il Baleza e adesso con la Juventus. È un normale miglioramento della squadra oppure è porta a portuna a lei? No, no, è certamente il fatto che io porto buono. Ronaldinho come l'ha visto? L'ho visto bene, in progresso, sta cominciando a entrare nella voglia di ritornare ad essere Ronaldinho che noi conoscevamo e per fare questo ed essere positivo e produttivo per la squadra deve giocare vicino alla rete, cioè nei pressi dell'area di rigore, immediatamente dietro la punta o le punte, là dove può essere veramente esiziale per l'altra squadra. Ottimissima cosa, una nota stonata, forse una parte del pubblico non ha esposto gli stressioni, non so se lei cosa ne pensa di questa parte della tifoseria che forse non concorda o ancora non ha capito i programmi della società. Non so cosa dirle, hanno una testa, ragionano con la loro testa. In Italia fino a proprio contrario c'è libertà. Ma cosa si sente di dire loro, di avere fiducia? Ma niente, adesso capiranno e perciò le novità sono sempre difficili da accettarsi da parte di tutti, non c'è mai una novità che abbia il consenso del 100% delle persone. La ringrazio!